buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv leggeremo insieme i giornali come tutti i giorni vedremo le notizie dell'ultimo weekend è un weekend che dà l'inizio alla settimana di pasqua cosiddetta la settimana santa e di questo parleremo nell'annunciare il santo del giorno e allora intanto vediamo quello che ci dice oggi l'almanacco ed eccolo qua si parla di lunedì santo lunedì santo iniziano le celebrazioni dicevo della settimana santa e l'evangelo ci ripropone l'episodio che è accaduto a Betania una località non lontana da Gerusalemme ed era il paese dove abitava Lazzaro con la sua famiglia Gesù in quel momento si trovava ospite della famiglia di Lazzaro ed era servito a cena dalle sorelle di Lazzaro Marta e Maria e Maria cosa fa? Maria in segno di devozione unge i piedi del maestro con un olio molto molto gustoso e poi scioglie i suoi capelli un atto che ha un significato questo nelle tradizioni sociali e dei degli ebrei in quel periodo un atto un po' inconsueto perché le donne avevano sempre i capelli raccolti e li scioglievano soltanto di fronte al loro marito e con questi capelli asciuga i piedi del maestro e i discepoli inveiscono inveiscono perché dicono quei soldi potevamo utilizzarli in modo diverso potevamo darli ai poveri ma Gesù dice lasciate fare lasciate fare perché questa è una unzione che riguarda il mio seppellimento ed è l'annuncio appunto della morte di Gesù sulla croce e inizia dunque la settimana con tutti i riti che inducono un po' a una riflessione per quanto riguarda la morte e poi la resurrezione di Pasqua Ciò detto passiamo alle previsioni del tempo Bel sole oggi bel tempo su tutte le marche stabile e solleggiato per gran parte della giornata verso sera però ci saranno qualche ci sarà qualche nube in passaggio il progressivo aumento da sud ma senza fenomeni le cose potrebbero potrebbero cambiare nella giornata di domani il clima è mite stamattina era freddo devo dire stamattina c'era una certa brezza che gelava e poi comunque le previsioni dicono che la temperatura si alza nel corso della giornata i venti i venti sulle coste da est e sud est dall'entroterra da est il mare leggermente mosso la temperatura minima si è abbassata a 4 gradi e vediamo che il sole dovrebbe sorgere verso le 6.05 tramontare alle 10 e 21 alle 18 e 21 scusate ebbene ora diamo un'occhiata ai giornali dopo aver dato l'occhiata alle previsioni del tempo e cominciamo oggi dalla prima pagina del resto del Carlino la prima pagina che ha il consultivo di tutte le notizie che provengono dalla regione passiamo passiamo da quella di Pesaro ebbene grande successo hanno ottenuto anche quest'anno le visite promosse dal FAI in diverse località della provincia e anche della regione e su Pesaro ha acquistato tanta tanta gente la visita di Palazzo Ducale quel palazzo che si trova in piazza del popolo che è occupato dalla prefettura e che molti desiderano che fosse più dedicato ad aspetti museali ad aspetti da visitare era un palazzo che è stato realizzato dai malatesta e poi occupato dalle altre famiglie tanta voglia di cultura ressa per entrare a Palazzo Ducale boom di visitatori nel fine settimana grazie alle giornate del FAI per scoprire gli affreschi e le stanze presidenziali e per alcuni è stata una vera sorpresa ne parleremo dopo e poi parliamo della cronaca rapina in villa presa a schiaffi ma ho mantenuto la calma erano armati e una famiglia rapinata ad alcuni malviventi con un accento di un tenore dell'est a Fano il centro-sinistra presenta la candidatura a sindaco di Cora Fattori l'unica donna in lizza che lancia la sfida per le primarie del centro-sinistra che si terranno il 7 aprile prossimo vediamo le notizie di Ancona Baruffa allo stadio tifosi all'assalto della squadra di calcio non sono rimasti soddisfatti dalla prestazione ottenuta a Recanati dove appunto l'Ancona ha perso in 50 contro il Pullman che portava i giocatori a casa viabilità contratto MIT ANAS un tesoretto da 95 milioni per le marche finanziata alla Pedemontana questa arteria che dovrebbe ricorrere in maniera parallela verso la statale 16 della costa e che dovrebbe riunire tutti i centri che si trovano a ridosso dell'Apennino a Falconara si scontrano auto e scooter feriti 2, 1 e grave vediamo Ascoli Piceno ad Acqua Santa il Piceno piange la maestra Ivana Matucci una mamma eccezionale a Casette Edete, centro giovanile, i giochi tra rioni chiudono la festa e nel Fermano l'inflazione ha colpito duro conto a famiglia di 5.000 euro 5.000 euro che costituiscono il minor valore della moneta la moneta ha sempre la stessa cifra però per acquistare i beni occorrono di più ebbene le famiglie ci rimettono 5.000 euro politica politica fioravanti va a caccia di un altro mandato tanto tanto da fare ha detto abbiamo impostato tanti lavori e dovremmo continuare appunto a portarli a termine veniamo anche la provincia di Macerata in via Roma rissa colpe di spranghe tra gruppi di egiziani autodanneggiate veramente una lite furibonda tra due gruppi di egiziani che se la suono suonata di santa ragione ma veramente con una violenza feroce una violenza feroce a San Severino purtroppo un giovane agricoltore è stato stroncato da una malattia mentre Lambertucci arriva a Lourdes a piedi dopo aver percorso 1.500 chilometri aveva anzi 78 anni quindi veramente un'impresa memorabile condotta con impegno ma anche con grande fede è una grande costanza e quindi abbiamo dato un po' il sunto di tutto quello che è accaduto nel weekend ora apriamo il giornale e vediamo la fila che i pesaresi hanno fatto per entrare a Palazzo Ducale grazie al FAI l'assalto dei 700 a Palazzo Ducale tra freschi eletti presidenziali tutti assetati di arte e di storia ebbene sono state diverse le novità che hanno così sorpreso i pesaresi in visita a Palazzo Ducale innanzitutto la Camera Presidenziale che cos'è la Camera Presidenziale? è una camera restaurata con un letto a due piazze ma il letto è molto piccolino anche se è a due piazze ebbene questa camera riceve gli ospiti di riguardo non di lusso di riguardo che visitano Pesaro e soprattutto ci hanno dormito tre presidenti della Repubblica il primo è stato Sandro Pertini e poi Carlo Azzeglio Ciampi e per ultimo Giorgio Napolitano e chissà che anche il nostro presidente e l'attuale Mattarella un giorno rimanga a dormire a Pesaro la Camera è grande come circa due monolocali sugli 80 metri quadri forse questa larghezza che attrae chi dorme tutti i giorni molto molto meno commenta il giornale tra i pesaresi a fare la fila in piazza tanti non erano iscritti al FAI qualcuno aspettava dalle 9 di mattina e sono entrati due ore dopo con innegabili malumori ma nel pomeriggio è peggio le visite diventano sold'auto alle 15.10 insomma c'è stata una grande ressa questo vuol dire che veramente Palazzo Ducale è una meta turistica di grande importanza e dovrebbe essere reso visitabile tutti i giorni magari la prefettura potrebbe trasferirsi nel vicino Palazzo della Finanza oppure trovare un'altra sede e costruirsi una nuova insomma una funzione diciamo così più attrattiva di questo palazzo di questo monumento di piazza del copolo dovrebbe essere attuata ma questo è un altro discorso un'altra sala importante è la quarta stanza col soffitto affrescato dal Liverani dove c'è anche un quadro che ritrae ritrae Collinuccio a cui è intitolato una piazza di Pesaro e molti pesaresi non sanno chi era Collinuccio era un umanista esiliato da Pesaro e poi riattirato con l'inganno in città da Giovanni Sforza che poi lo torturò e lo uccise quindi era anche una vittima e poi la sala degli Alabardieri il bagno della duchezza Lucrezia d'Este il locale annesso al giardino segreto con le pareti illustrate da alberi con foglie le cosiddette boscarecce sopra ai cui rami sono appese le armature ebbene storia tante storie tanti episodi delle vicende pesaresi che sono appunto rimaste in quel palazzo in quel palazzo di grande bellezza e a Fano a Fano pieno anche le visite che sono state attuate organizzate dal FAI nella villa romana di via dell'Abbazia ebbene un successo anche questo perché era la prima volta che si aprivano al pubblico ed ora passiamo alla cronaca e vediamo l'episodio della rapina che è stata effettuata nei confronti di una famiglia pesarese Luigina donna coraggio e la mamma mi hanno presa a schiaffi ma sono rimasta lucida e la signora aggredita e rapinata in casa insieme al marito Antonio Sartori ho visto una pistola e forse anche due quindi i rapinatori erano armati sono fuggiti con un'auto bianca hanno intimato alla donna di consegnarle le chiavi della cassaforte per evitare peggioramenti di quello che stava accadendo la donna ha aperto la cassaforte e sono stati prelevati prelevati ori preziosi di famiglia gioielli di famiglia che avevano un valore di circa 30-40 mila euro insomma il bottino ingente e poi sono andati via è stato un momento di tensione quando uno dei malviventi ha schiaffeggiato la donna per farsi consegnare appunto le chiavi un episodio su cui indagano ovviamente le forze dell'ordine per cercare di risalire a questi malviventi e violenti picchia i genitori invalidi arrestato un 56enne è caduto a Monte Labate ha preso a botte il padre e la madre ottantenni in sedia a rotelle addirittura il genitore temendo che potesse succedergli qualcosa di peggio è riuscito a chiamare il 112 e fare intervenire una pattuglia dei carabinieri è accaduto ieri mattina in una casa di via Pantanelli a Monte Labate i militari sono stati aggrediti poi dall'uomo un 56enne del posto che ha dei problemi di alcol ed è già noto alla giustizia ed ora siamo a Fano e vediamo che ieri è stata presentata la candidatura e il programma elettorale di i Cora Fattori candidata alle primarie per il centro-sinistra primarie che si terranno come noto il 7 aprile prossimo vediamo il titolo la corsa di Cora Fattori un sindaco donna sarebbe una rivoluzione infatti è la prima donna che si presenta alle elezioni del sindaco presentata ieri mattina la candidatura dell'assessora con la lista civica F non con più Europa ma con una lista nuova una lista civica in cui appaia soltanto una lettera F F come fanno F come fattori F come fare insomma ognuno può dare il suo significato nessun riferimento al suo partito più Europa di cui è coordinatrice regionale e poi vediamo invece una iniziativa che riguarda un po' tutta la provincia presentazione del sodalizio a prefetto e questore dell'associazione dei cavalieri al merito della Repubblica tutti coloro che hanno ricevuto questo significativo riconoscimento dalla prefettura a nome del governo a nome del presidente della Repubblica potranno avere un punto di riferimento come un'associazione ebbene è stata costituita da un gruppo di aderenti presidente è stato eletto Mauro Papalini l'imprenditore della nota azienda di polizia vice l'avvocato Floro Bisello e gli altri componenti sono Luca Amadori presidente del Lions Club di Fanno Giuseppe Atanasio Alessandro Fantini Michele Guia Giancarlo Titolo una delegazione guidata dal presidente Papalini è stata ricevuta dal prefetto appunto la signora Emanuela Greco e poi volevo farvi vedere questo articolo di politica che insomma evidenzia il travaglio che c'è all'interno del partito democratico anche a livello regionale il PD va in scena la resa dei conti in titola il Carlino sul banco degli imputati i rivoltosi chi sarebbero i rivoltosi sono coloro che contestano la conduzione del partito a livello regionale da parte della segretaria Chantal Bonprezzi sarebbero Mangialardi Cesetti Bora Casini Vitri Biancani sarebbero i colpevoli della fronda alla Bonprezzi e ci sarebbe stata una riunione così come ha annunciato il Carlino a livello romano insieme alla Schlein per vedere come ricomporre questa frattura comunque nessun provvedimento è stato preso a carico della segretaria regionale qui l'episodio dei tifosi dell'Ancona che hanno contestato i giocatori reduci dalla partita di Recanati dove non hanno fatto una bella figura esplode la rabbia degli ultra assalto al pullman della squadra finestrini rotti e lancio di torci insomma 50 tifosi hanno dato in escandescente in attesa al Del Conaro appunto dei loro beniamini dovrebbero essere beniamini e invece in questo articolo vediamo delle foto che evidenziano la rissa tremenda che c'è stata a Macerata dove si sono affrontati due gruppi di egiziani l'uno contro l'altro si sono affrontati di strada di notte identificate una decina di persone anche dai video dalle fotografie che sono state scattate ebbene se le sono date dicevo di santa ragione hanno preso delle spranghe dei bastoni si sono dati calci a terra pugni danni anche alle autovetture che erano in sosta potrebbero trattarsi degli stessi balordi che si erano affrontati anche ad agosto addirittura quella volta hanno usato anche i macete quindi veramente una situazione situazione terribile mazzate alla testa mentre era a terra ho pensato ora questi lo uccidono veramente una violenza indicibile questo per quanto riguarda il resto delle carlino nella giornata di oggi ora vediamo invece il corriere adriatico il corriere adriatico sulla pagina di Fano un articolo di apertura riguarda un po' le pulizie che generalmente si fanno in previsione della Pasqua si fanno dentro casa ma si fanno anche in città si cerca di ridare un'immagine un decoro a una città che ovviamente ha sopportato i problemi invernali e diciamo che durante le vacanze pasquali le avanguardie dei turisti fanno delle escursioni fanno delle gite l'Italia intera si mette in movimento e qualcuno cerca anche un luogo dove passare le proprie vacanze estive ecco perché tutte le città cercano di apparire nel migliore dei modi e così anche fanno ma fanno però un problema in questo momento è veramente sotto tanti tanti cantieri cantieri che cercano di qualificare il volto della città ma in questo momento un po' sconvolgono sconvolgono tutti tutto mucchi di terra recinzioni rosse viabilità un po' cambiata insomma ci sono dei problemi e allora questo è un fatto che si può è una medaglia che si guarda su due facce una quella appunto dei disagi che creano i cantieri l'altra invece è quella che oh guarda questa città come si rinnova come va al passo di tempi come cerca di qualificarsi ci sono due giudizi contrastanti comunque in questo articolo è l'assessore al turismo Etienne lucarelli che evidenzia tutte le iniziative di attrazione che l'amministrazione comunale organizza per accogliere i turisti di Pasqua ebbene ce ne sono tante come l'apertura delle zone archeologiche che sappiamo come destino grande grande interesse lo si è visto un po' in tutta Italia dove l'archeologia è veramente una forza d'attrazione particolare che incentiva il turismo e poi vediamo tutte le altre iniziative che riguardano l'outdoor ma anche la possibilità di passare delle giornate riposanti all'aperto confidando ovviamente nel bel tempo e a Pasqua e a Pasqua le previsioni dicono che ci dovrebbe essere un bel tempo così speriamo lavori alla Zengarini ritardi dovuti ai limiti di spesa abbiamo parlato di lavori pubblici la Zengarini è uno dei luoghi in cui si sta intervenendo sia per rifare la tribuna sia per realizzare quel sottopassaggio è più una palestra una palestra per permettere di svolgere tutte le attività sportive anche nei mesi invernali l'assessore Brunori risponde alle accuse dell'atletica Tecfem e allora vediamo ora la presentazione dell'assessora Cora Fattori fatta ieri in pieno centro storico a Fano l'unica donna in corsa alle primarie del 7 aprile la candidatura è stata preceduta dalla raccolta di 150 firme raccolte in due ore e mezzo in centro storico che hanno così anticipato la sua presentazione fatta appunto di persona intervistata da Fabiola Pacassoni che è una operatrice che ha dedicato gran parte della sua vita ai servizi sociali ha diretto anche il centro Margherita che sappiamo assiste i malati di Alzheimer esponente di più Europa ha scelto di dare vita a una lista civica denominata semplicemente F Cora Fattori dicevo F come fanno come fattori come fare una lettera circondata dalla frase una città maiuscola per evidenziare tutte le opportunità che ha Fano terza città delle Marche per presentarsi con un volto nuovo nella prossima tornata amministrativa ha posto l'accento sui servizi sociali e poi insomma sull'efficienza tecnologica e via dicendo insomma l'articolo dimostra e evidenzia tutti gli aspetti che ha toccato ma un articolo importante tracciato qui di spalla dal Corriere Adriatico riguarda soprattutto un giorno particolare vissuto dalla combattente la giornata di ieri resterà tra ricordi indelebili di questa polisportiva che pensate opera Fano da cent'anni ebbene ieri si è svolta la prima iniziativa del centenario un insieme di opere che si prolungheranno per tutto l'anno sempre nel quadro del centenario ieri si è svolta l'assemblea dell'associazione nella sala della fondazione della Carifano poi seguita dal pranzo sociale c'erano tutte le autorità dal presidente nazionale della FIB della Federazione Italiana Boce al presidente regionale ovviamente tutti gli esponenti locali di questo sport poi c'era ovviamente la politica il sindaco Massimo Seri c'era l'assessore regionale Aguzzi c'erano insomma i consiglieri comunali gli assessori tutte le autorità c'erano anche il vescovo dobbiamo dire tutte le autorità civili presenti a porgere le congratulazioni per l'attività svolta da questa associazione un'associazione fondata nel 1924 dai reduci militari e poi si è prolungata attraversato anche il periodo della seconda guerra mondiale dal capannone di via Metauro è passata al grande capannone realizzato da Bursi nei pressi del ballato qui si è tenuto poi ieri il pranzo sociale con il taglio della torta insomma tutti a applaudire l'associazione guidata in questo momento da un presidente veramente veramente fattivo Luciano Gasparelli insieme al suo compagno il suo diciamo così consiglio di amministrazione che ha veramente un ruolo fattivo un ruolo operativo vediamo ora le altre notizie passiamo a San Lorenzo in campo piano asfalti e opere idrauliche la priorità alla manutenzione San Lorenzo in campo sindaco dell'Onti e Bonifazi illustrano i lavori sulle strade per la sicurezza abbiamo parlato anche sabato scorso di questo argomento ancora comunque importanti lavori sulle strade laurentine per migliorare la sicurezza che è l'obiettivo principale prima di chiudere voglio farvi vedere questo articolo che riguarda che riguarda lo sport dove purtroppo la Vis e soprattutto il fano calcio hanno perso la Vis ha perso contro il Torres il fano calcio non vi dico il risultato perché fa rabbrividire ha perso contro la Vigor Senigallia un sonoro ve lo dico 5 a 0 ebbene ora la squadra deve leccare le ferite e reagire per cercare la salvezza e questo è tutto per il momento Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto